Dunque, sono costretto, non riesco a stare zitto, a non farmi sentire, farmi fatti miei come qualcuno pretenderebbe, sentendo quanto si dice in giro e quanto soprattutto si scrive sui social. Io non sono un virologo, tantomeno un esperto di malattie infettive e pandemie. Non mi sono laureato in Albania e neppure su Wikipedia. Leggo ed ascolto tanti esperti. Seguo le statistiche dei vaccini e dei contagi, non solo quelle di Frugarolo, Varazze e Bustartizio, ma quelle di tutto il mondo. Seguo i provvedimenti e le linee sanitarie presi in Europa e nel resto del mondo. E mi accorgo che non sono differenti da quelli presi in Italia, salvo parlare dei paesi poveri che non possono permettersi una vaccinazione di massa fino a quando non si tolgono i brevetti dai vaccini e si regalano i vaccini ai paesi poveri per potersi vaccinare come stiamo facendo in tutto il mondo. Non parlo di quelli governati da despoti non vax e convinti che il Covid-19 non esiste e che sia tutto un complotto delle case farmaceutiche e della BCE. Mi chiedo, ma come si fa a dare credito a ciarlatani e a chi strumentalizza la pandemia politicamente? Ancora oggi, di fronte a moltiplicarsi delle varianti, vi sono imbecilli che parlano di complotto e dicono che vaccinarsi è stato un errore. Secondo loro bisognava non vaccinarsi per raggiungere l'immunità dei greggi. Qualcuno ci ha provato, poi quando è rimasto colpito ha cambiato idea strada facendo. Io mi credo, come è possibile sostenere tutto questo quando gli ospedali si stanno riempendo di malati gravi, in stragrande maggioranza non vaccinati e i contagi aumentano a dismisura, non solo in Italia, dappertutto. Ma che cazzo di televisione e di telegiornale leggete, che giornale leggete voi altri? Da chi vi informate? Ovunque, la pandemia sta lasciando tanti morti, aumentano i contagi. Possibile che non vi rendete conto? Branco di rincoglioniti, sì rincoglioniti, che le varianti colpiscono tutti, ma che i non vaccinati finiscono in ospedale, mentre i vaccinati risultano contagiati o asintomatici, ma stanno bene e non rischiano e non rischiano, ma per colpa dei non vaccinati, dei non vaxi, dei tanti coglioni, lo ripeto, coglioni, devono stare in quarantena per non contagiare i non vaxi che pretendono di essere liberi di infettare e infettarsi, salvo chiedere perdono quando sono poi in terapia intensiva, salvo qualche pazzo che rifiuta anche di farse curare e decide di leggere e di morire, ma pazzi ve ne sono dappertutto. Quindi io dico smetteteli di andare dietro a stregoni, a ciarlatani, dietro a intellettuali che cercano visibilità e pennivendoli tengo famiglia, oppure comici ed artisti caduti in disgrazia e che cercano solo un contratto per un posto per un posto al sole. Senza i vaccini, al mio modo di vedere, non è una mia sola opinione, avremmo i morti per strada, come è successo in tante altre epoche e in tante altre pandemie. E le fosse comuni, come è successo in alcune realtà di questa pandemia e in questo pianeta. Mettetevelo in testa e ricordate che siete una piccola minoranza di non vax, che togliete la libertà alla stragrande maggioranza, che vuole ritornare a vivere una vita normale, quanto prima e non fra due anni. Ne sono già passate due e non vorremmo farne altre due. Detto questo, vi auguro buona fine, buona fine anno e un buon inizio di 2022 a tutti.